Come cambiare lingua sul nuovo gioco Scary Ritual, questo sparatutto che ammazzi così gli zombie, in questo caso per modificare così la lingua, se te lo ritrovi nella lingua portoghese, brasile, tedesco, spagnolo, possiamo modificarlo e metterlo in italiano, quindi se nel gioco non puoi metterlo in italiano è possibile modificare così la sua cartella. Quindi andiamo direttamente nella sua cartella, una volta entrati così nella sua cartella andiamo direttamente su Scary Ritual Data, vai direttamente su Plugins per 86 e qui c'è l'impostazione di configurazione e questo file qua ovviamente ci clicchiamo un attimo sopra, scendi fino a trovare così il language, da qui da English metti così Italian, vai sul file e fai salva. Se non te lo fa salvare perché non hai i permessi è possibile sempre cliccare così su questo file, tasto destro sopra, vai su proprietà, sicurezza ed eccoli qua. Vai su modifica, controllo completo, tutti e fai applica. Il tuo profilo, utente, fai consenti tutti e fai applica così hai il permesso di modificare questo file. Attributi, solo lettura, togli così la spunta su solo lettura, la togli, fai ok e ora non ti resta che entrare nel gioco. Come puoi vedere il gioco è in italiano ovviamente ha solo l'interfaccia in italiano, non c'è la lingua, quindi opzioni audio, opzioni grafiche, audio dei dialoghi, abilità, linee vocali, opzioni dei controlli, qui l'interfaccia è in italiano. Quindi se questo video è stato utilissimo su come modificare così la lingua sul nuovo gioco Scare Ritual, iscriviti alla città. Grazie, ci vediamo ad un prossimo tutorial, ciao. Ciao.